Ciao e benvenuti al Blue Monkey Languages. Oggi faremo un test basandoci su quello che abbiamo studiato finora. Troverete una domanda e tre risposte, delle quali dovete sceglierne una. Troverete le risposte nel link sotto questo video. Incominciamo e buona fortuna! Prima domanda. Lei è maestra di mio figlio. A. Il. B. Le. C. La. Seconda domanda. Questo è libro. A. Un. B. Una. C. Degli. Terza domanda. Mio è più grande di me. A. Madre. B. Sorella. C. Fratello. Quarta domanda. Conta dall'undici al quattordici. A. Dieci. Undici. Dodici. B. Dodici. tredici. Quattordici. Quinta domanda. Che ora è? A. Le diciotte e quindici. B. Le tredici. C. Le nove. Sesta domanda. Quante consonanti e quante vocali ci sono nella parola buongiorno? A. Quattro consonanti e sei vocali. B. Sei consonanti e quattro vocali. C. Cinque vocali e cinque consonanti. Settima domanda. Questi sono i miei... A. Libri. B. Libro. C. Bibbra. Ottava domanda. Giulia fa. A. La doccia. B. I compiti. C. Colazione. Nona domanda. Io sono la della fila. A. Quarta. B. Quattro. C. Quattordici. Decima domanda. Fai lo spellin della parola acqua. A. Ancona. Cremona. Quadro. Udine. Ancona. B. Ancona. Cremona. C. Ancona. Cremona. Udine. Quadro. Ancona. B. Bravissimi. Ricordate di controllare le vostre risposte nel link sotto questo video e noi ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!